Tentato furto nella notte scorsa attorno alle ore 3 del mattino i danni di un deposito della ditta di pelletterie Orciani di Fano. I ladri, tre o forse quattro persone, si sono introdotti in un magazzino della ditta in via La Malfa, nella zona industriale di Bellocchi, praticando un foro in una struttura adiacente, ancora in fase di allestimento. Ma una volta nei locali del magazzino di Orciani è scattato l'allarme che ha allertato così le forze dell'ordine. I ladri, nel frattempo, avevano già trasbordato in un furgone, rubato in una ditta vicina diversi scatoloni di merce, tra borse, cinture ed altro pellame, per un ammontare di oltre 200 mila euro di valore. Ma l'arrivo sul posto di un avvolante del commissariato di Fano li ha messi in fuga, lasciando sul posto però tutta la refurtiva. Un colpo pianificato nei minimi dettagli, a partire dall'individuazione dell'obiettivo, un magazzino non reclamizzato della ditta, senza referenza esterna e quindi poco individuabile, al rubare i cosiddetti attrezzi del mestiere nelle ditte adiacenti. Ben tre aziende sono state visitate prima del magazzino di Orciani, una per il furgone, un'altra per rubare il muletto con il quale è stato praticato il foro nella parete e da un fabbro per rubare frullini elettrici ed altro materiale utile allo scasso. L'allarme era scattato ma da un controllo remoto delle telecamere non sembrava esserci nulla fuori posto. Poi però, andando ad analizzare meglio le immagini, la vigilanza si accorta del foro praticato nella parete e di lì è scattato subito l'alert alle forze di polizia. I ladri però hanno fatto perdere subito le loro tracce, fuggendo nel buio della notte. La polizia ora sta indagando sul furto e sta scandagliando le immagini e le tracce lasciate sul posto dai malviventi alla ricerca di elementi che possano ricondurre alla loro identità.